Un afoso pomeriggio di luglio ed un torneo di padel per simpatizzanti leghisti diventa l'occasione per parlare di politica regionale e del momento del partito di Salvini. Il consigliere comunale Emanuele Alabiso e il neocordinatore cittadino Raffaele Carfì hanno invitato il deputato nazionale Andrea Crippa, vice segretario federale. A tre mesi abbondanti dalle regionali il braccio destro dei Salvini conferma la volontà di trovare un candidato unitario nel centro-destra. Il mio obiettivo è portare un candidato unitario, quindi spero che nei prossimi giorni il centro-destra decida un candidato unitario perché poi questa è una regione che al netto delle pretese partitiche politiche ha bisogno di andare avanti, ha bisogno di essere attrattiva, ha bisogno di recuperare i tanti talenti che stanno scappando e quindi l'obiettivo della politica è quello di investire su una classe dirigente che abbia a cuore l'interesse dei siciliani. Poi chiaramente dobbiamo trovare un nome unitario e il centro-destra deve avere la maturità per sedersi intorno a un tavolo e trovare la sintesi. Un sondaggio di fine agosto di Fratelli d'Italia sul gradimento dei politici siciliani alla presidenza della regione pone ai primi posti l'attuale segretario regionale Nino Minardo e il deputato nisteno Alessandro Pagano, presente sabato pomeriggio al meeting tra politica e sport. Eppure non è esclusa la candidatura del mondo civico, pur se Crippa appare poco propenso. E piacerebbe di più avere un candidato politico, perché poi bisogna riportare anche dignità e centralità alla politica e ci sono politici in Sicilia che hanno dimostrato capacità. I nomi della Lega sono nomi validi, sono nomi che hanno competenze, che l'hanno dimostrato nel tempo, che hanno esperienza sia amministrativa di politica romana sia regionale. E quindi sicuramente come Lega la fortuna e il mio orgoglio è quello che non in tantissimo tempo, rispetto ad altri partiti che in Sicilia invece ci sono da tanti anni, abbiamo già una classe dirigente e qualche esponente che ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Poi per carità decide il centrodestra e dobbiamo arrivare a un candidato unitario. Però, ripeto, da vice segretario della Lega sono orgoglioso che anche in Sicilia i due nomi con il più alto gradimento siano nomi della Lega. Il caso di Igor Gelarda, che ha fatto volare gli stracci dentro la Lega siciliana dopo il deludente risultato ottenuto a Palermo, non sembra preoccupare più di tanto Crippa e di vertici della Lega. Grazie a tutti.